Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art Abbiamo ottenuto, siamo su Neverwinter ovviamente Abbiamo ottenuto il nostro primo compagno, eccolo qui Raios E' un chierico, ci aiuterà a curarci Ehm... Adesso dobbiamo effettuare la missione Foglia del Mago Prima però preghiamo Bene Sempre meglio di niente Che cazzo? Comminghia Scusi Aspettate, il tuo compagno ha accumulato Abbastanza esperienza per essere inviato dall'addestramento Va bene Lo inviamo Opzioni compagni Inizia l'addestramento Dura 30 secondi Va bene Vabbè Nel frattempo ne andiamo avanti Sì, lo so che fa male E mori A Raios è già tornato Grado 2 del compagno Va bene Facciamo sta cosa Perfetto Stiamo trovando un sacco di roba ragazzi Fra un po' finiremo lo spazio Già mi sa Dove dobbiamo andare? Là c'è un tizio che si è bloccato Veggente Non riesco a beccarlo Non vedi il veggente In furtività Il balordo E mori Bastardo Va bene Questa è la torre di Tuaro Il fulgente Quindi è qui il che dovevamo andare Oh ciao Scusi Tutti non morti ragazzi Bisbignante Berserker Lasciate stare Mio compagno Mortacci vostri Oh va bene Possiamo adestrare ancora Raios Maestro forse Dovreste ascoltare Gli avvertimenti di Quarton Razad Preoccupa anche me Lucian Pancrates Va bene Che ho fatto? Va bene Una moneta Abilità o religione Allora Compagni Opzioni compagni Inizio addestramento Due minuti Va bene Ciao Raios Ci vediamo dopo Un momento Qua c'è qualcosa Attività Dungeon Questo è Arcano Perfetto Prendi tutto Dai Mancano Ah 25 minuti Alla prossima Freghiera Leggi la nota Orrori del reame Devo Vabbè C'è un temporale Grazie Oh come sei qui Puoi aiutare il mio maestro? Io sono Lucian Pancrates Apprendista del maestro Tualo Il maestro Tualo Stava lavorando un rituale Quando si è aperto un portale E iniziato a uscirne Dalle afrogeni avverrante Ha sigillato la porta Ma molti erano già fuggiti Altri stavano arrivando Dobbiamo Chiudere quel portale Posso rimuovere il sigillo magico Che tiene la porta chiusa Ma dovrei entrare E distruggere i cristalli Delle vocazioni Che alimentano il portale Sono pronto Salve Ciao Ciao Devo distruggere Sti cosi Vabbè Fuori uno Cazzo Che cazzo è? Hulk? Cazzo Ma quanto cazzo Quando ritorna Uh attenzione C'è una specie di risucchio Ragazzi Stop Oh è ritornato Rayos Devi andare a morire Ammazzato Via Preso Ammazza Si è ristrutto tutto Un momento Pure questo è andato Nonostante le ferite Selvaggi infilite al corpo Questi sono chiaramente Ti resti rituale il fulgente Per misericordia Chiaramente morto È uno strano libro Si trova accanto al corpo Anche se in cattive condizioni È possibile leggere il titolo Metamorphosi Della spellplug Sembra essere il libro Con cui il tua Lo stavo lavorando Quando è morto Vabbè Prendiamo tutti i tesori Che ci sono Maschera crudele Tutto crudele Vai Oggetto non identificato Non identificato Non identificate Vaffanculo Non identificato Amureto rivitalizzante E c'è un forziere qui Basta che non è un mimic No Vediamo un po' di Qua si è illuminato qualcosa Boh Vabbè Vediamo Identificare Qualcosina Questi non li possiamo usare Vabbè Sono buoni per essere venduti Cappagile Cappagile Vabbè Non identificato Identifichiamolo Aramatoio di cuore Castigatrice Eh cazzo Mi dà molto potere Ma mi toglie Tutta la deviazione E qui invece Che abbiamo Borsa celestia Della raffinazione Apri cassa Perfetto Manco a dirlo E Che altro Questo No Non mi conviene Mettere niente Kit natura Finalmente Ok Guardiamo con sto tizio Gioia è morto Ce l'hai fatta Hai chiuso il portale Mera Troppo tardi per il maestro Tualo Chi se ne frega Ma come è potuto accadere Fammi vedere il libro dei rituali Strano Il rituale In questo libro È in qualche modo sbagliato Dovrebbe dare delle informazioni Sulla spell plug Invece apre un portale Per l'orrido reame Remoto Siamo tutti fortunati Siamo tutti fortunati a essere vivi Il maestro Tualo ha ricevuto In prestito questo libro Dal suo amico Razad Proprio questo pomeriggio Deve essere stato un errore terribile Non è così Vabbè Che bello Ci dà un tesoro Pugnale Del duello Da duello Vediamo che cosa dà Sì Dovrebbe convenire Aspettate Fatemi vedere Dove conviene di più È uguale Praticamente Sulla mano primaria Sulla secondaria Lo mettiamo sulla primaria Ah Sono uguali Quelli che ho sulle due mani Vabbè Il personaggio Mi sa che ha Fatto un altro level up Vai vai Quattro minuti Va bene Ciao Raios Dobbiamo ritornare Dal sergente Nox Vediamo che cosa ci dice Dai cazzo Ah ci ha Ributtato direttamente Qui Va bene Meglio così ragazzi Ciao bello Siamo comunque A metà strada Dal level up Quel mostro L'alk Che poi in realtà Si chiama Amber Alk Era molto Cazzotto Devo dire Ciao sergente Completiamo A posto Nel clave Protettore Esplosione Magica Trova Yosef Lickle Arraeta Che significa Di nuovo Nel mio dialetto Nel quartiere Rifugio Le mendicante Nel clave Va bene Vieni cavallino No No Non voglio L'emissario Se io Tipo Faccio così Perfetto Mi sono fatto Malissimo Però Ne è valsa La pena Ho saltato Un bel Po' Di Strada Facciamo quest'ultimo Ragazzi Poi l'episodio Lo concludiamo qui Se vi levate dal cazzo Magari Distretto Della torre No Esplosione magica Mi ha mandato di nuovo A quella Missione di merda Che farò da solo Scusate Eh Questa voglio Perfetto Yosef Linkletter Da quanto tempo Tua moglie Come sta Se il libro Che ha ucciso Tuale È venuto Da Razzad Allora Dovremmo scoprire La verità Su questo E sottrarre A Dorotea A Razzad Potremmo essere Fortunati Tuttavia Siamo nei pressi Nei pressi Della torre Della consolazione Ho visto Razzad Nel cortile vicino Andiamo ad affrontarlo Andiamo A comandare Ciao zio Ah mi chiedevo Quando avrei rivisto Voi due Avete trovato La trappola Che ho posizionato Per Tualo Sfortunatamente La vostra rivelazione È arrivata troppo tardi Vedete Il rituale È già iniziato I portali Si stanno aprendo I sacrifici Sono raccolti E non c'è niente Che potete fare Per fermarmi Non c'è problema Però il problema È il guaritore Che ci manca E uno È andato Ciao Quanto mi piace Sta mossa Ok Bello È tornato pure Raios Ciao Deve andare a morire Ammazzato Brutto Balordo Le registrazioni Si interrompono sempre Ma che cazzo Che roba è quella Di nuovo un Amber Hall Oh Via Non uccidere Sti cosi Piccoli Che ci farebbero Parecchio Ma Ahia Ma ha fatto male L'Hulk Ahio Ammazza Che foda Cuori uno Aia Zio Mi curi Per favore Mi ha fatto malissimo Raios Cazzo stai a fare Beviamo A posto Crepa No no Adesso non lo mandiamo A far l'addestramento Ragazzi Già stiamo crepando Come se non ci fosse un domani Grazie Abbiamo un inventario pieno Mannaggia Distruggiamo sto coso Su Perfetto Allora abbiamo fatto un level up Però questi stanno combattendo No Che cazzo E vg Che dite lo mandiamo Raios Dai Mandiamolo Opzioni compagni Sei minuti Dai Fa niente Ciao Raios Poteri Perfetto Eh ragazzi Ah talenti Giusto Eh Ok Ok Beviamolo sto coso Beviamo tutto Perché questa è una missione abbastanza cazzuta Abbiamo liberato solo uno slot però Mannaggia Questo che ci dà Questo ci sta bene Lì c'è un tesoro Andiamo a prendere il tesoro Questa chi è? Boh Vabbè Continuiamo Ammazza Ammazza Lo sta trucidando Bravo Yosef Corazza di piastre Ma che cazzo Gli attacchi ha Bravo Yosef La supercarica ce la teniamo per dopo ragazzi Eh vedete il berserker che si ingrandisce quando sta per morire Ammazza crudele no? Non frega niente Prendiamo solo i soldi ragazzi e andiamo Ammazza crudele ce l'ho già Non fa niente C'è il boss C'è il boss Oh la madonna Che cazzo? E adesso? Torniamo indietro va Torniamo indietro Yosef Dove sei? Eccolo Entriamo nelle fogne Mi sa ragazzi che la dovremo suddividere in due Oh bello Un mendicante Un mercante Non un mendicante Scusate Allora queste Via Tutte Questa via Vaffanculo non si può vendere Via via Tutto quanto Tutto quanto Oppure queste Oppure questi Via Via Anche questo 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 Tutto Tutto Via 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 Anche questo Non mi piace Questa anche Questo 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 Anche questa Tutto via Tutto via Eh Questo non l'abbiamo identificato Anche questo Via Questa ce la teniamo Questa no Identifichiamo quella Questa cosa Ci piace Però non siamo ancora in grado di Prenderla Perché siamo a livello 17 Dovremmo essere a 19 Va bene ragazzi Facciamo in questo modo Noi la Missione la terminiamo qui Nella seconda Cioè nel prossimo episodio Faremo la seconda parte Del La morte del maestro Tualo Ciao a tutti Dovremmo essere a tutti Dovremmo essere a tutti PlayStation Grazie a tutti.